Non sono preoccupato, sono arrabbiato perché è una partita in cui dovevamo soffrire, lo avevamo fatto e potevamo uscire in maniera diversa, però non sono assolutamente preoccupato. Non è neanche del modo in cui ha perso, perché è vero, all'inizio è stata diversa rispetto alla gara con la Fiorentina, è la verità, ha iniziato anche bene il Verona, però poi si è perso con degli errori sui due gol e da lì si è un po' slegato. L'impegno più grande è proprio quello, che al primo errore poi vengono meno tutte le nostre certezze, il lavoro più grande è proprio quello, che si può sbagliare, però si può reagire, si può reagire anche in maniera diversa, non è soltanto l'errore, commettere l'errore, ma avere una reazione diversa. Noi in un momento in cui dammo la sensazione che potessimo uscirne ci siamo complicati la vita. Mi spieghi le scelte tattiche, racconti come mai questo Kenner, il primo minuto, Pazzini dopo, ma non solo, insomma anche a Valotti, raccontami un po' le scelte tattiche. Le scelte ho bisogno di, in questo momento le ho visti bene, i giocatori che ho fatto le scelte in questo senso, ma ho bisogno anche di energia, di giocatori che avessero anche la capacità di offendere e non solo di difendere, di avere la capacità di attaccare la profondità perché mi aspettavo comunque una Roma forte, una Roma che ci avrebbe messo alle corde e quindi potevamo utilizzare ancora di più gli spazi. Non siamo riusciti ad essere più verticali, li potevamo fare in alcune situazioni e questa è stata una valutazione.